Il primo brano di programma, come vedete anche dal libretto in sala, è Chanteis di Robert Sheldon. È stata composta in forma di rhapsodia ed è un'opera originale che richiama la musica del mare e dei suoi marinai. Il lavoro si apre con un carattere molto sbarazzino, brillante, di tema iniziale, che poi sarà il tema principale dell'intero lavoro, a una struttura ritmica articolata e non di facile esecuzione, anche se apparentemente non sembra così. Espressivo e divertente questo pezzo, Chanteis, è stato anche selezionato dalla Yamaha Music Media Corporation of Japan come uno dei 100 migliori pezzi per banda nel 2001. Signore e signori, la banda sociale di Ardeno, diretta dal maestro Franco Pugliafito in Chanteis. Buon ascolto! Grazie mille! Grazie. 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 Grazie.